Per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina ci sarebbe bisogno di azioni condivise degli amministratori locali che in passato non sono state univoche e che oggi mancano addirittura. Questo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal senatore Enrico Buemi al congresso del Partito Socialista Italiano svoltosi a Salerno in merito alle sorti del Tribunale di Sala Consilina, confermando di fatto le possibilità concrete per il suo ripristino dopo l'esito della relazione della Commissione Vietti sul riordino della geografia giudiziaria. Una possibilità nella quale ancora crede anche la neonata Associazione Giustizia Possibile Tribunale di Sala Consilina che vede tra le promotrici le avvocatesse Elisabetta Giordano e Silvana Viola quotidianamente in contatto con il senatore Buemi. Per questo l'Associazione ha inviato ieri a tutti i sindaci del Vallo di Diano i modelli di delibera da approvare con i quali le amministrazioni comunali del territorio possono ufficialmente chiedere il ripristino del Tribunale di Sala Consilina. Nel documento nel quale si fa voti al Ministro della Giustizia Andrea Orlando viene ricostruita tutta la vicenda relativa alla chiusura del Tribunale di Sala Consilina e tutte le ripercussioni che tale decisione ha avuto sui cittadini del Vallo di Diano e dei territori limitrofi. Al Ministro si chiede infatti che nella prima utile seduta del Consiglio dei Ministri in sede di discussione del pacchetto giustizia sia adottato ogni utile provvedimento che consenta la rapida riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Negli ultimi giorni poi la paventata chiusura del Tribunale di Vallo della Lucania ha fatto tornare in gioco il Palazzo di Giustizia di Sala Consilina con l'ipotesi di recuperare il Vallo di Diano alla Corte di Appello di Salerno solo per realizzare il Tribunale del Parco con competenza da Capaccio al Golfo di Policastro fino al Vallo di Diano e con sede ovviamente a Vallo della Lucania. Un'ipotesi assolutamente non condivisa dall'Associazione Giustizia Possibile Tribunale di Sala Consilina che non accetta l'idea che per l'ennesima volta l'ex Tribunale valdianese sia utilizzato per salvare le sorti di strutture di altri territori prima Lago Negro e poi Vallo della Lucania dicono le rappresentanti dell'Associazione dobbiamo pensare a salvare noi stessi. Si attende ora che le amministrazioni comunali valdianesi facciano la loro parte deliberando al più presto a favore del ripristino del Tribunale di Sala Consilina agendo così in modo univoco e condiviso. Grazie